Questa mattina abbiamo incontrato all'ospedale di Gioia d'Auro il dottore Ziccarelli che è venuto su un mandato del direttore Brai a visitare l'ospedale di Gioia d'Auro per iniziare, diciamo, per avviare i lavori del Covid-19 e quindi portare nel breve tempo i pazienti affetti da Covid stabiliti al GOM di Reggio Calabria. Chiaramente a noi tutto questo ci lascia abbastanza perplessi perché su questa iniziativa improvvisa da parte dell'ASP ha di fatto determinato un problema abbastanza strutturale. Chiaramente una struttura che ancora non è pronta ad accogliere gli ammalati non ci sono né le strutture necessarie, non ci sono i medici adeguati il personale che c'è, il personale ultra sessantenne che comunque ha diverse patologie e quindi tutto quello che doveva essere e doveva garantire l'efficienza e la sicurezza all'interno di questi ospedali in questo modo rischia di non esserci. Chiaramente i percorsi Covid, al nostro avviso, vanno ben identificati, vanno chiariti, vanno messi nero su bianco perché ognuno in una struttura del genere deve sapere cosa fare, come fare e quando fare. Chiaramente l'ospedale in questo modo non avrà grosse soluzioni, il pronto soccorso va comunque limitato a quello che deve essere e all'interno vanno inserite le giuste branche per assistere gli ammalati del pronto soccorso. Chiaramente tutto questo ci lascia abbastanza amarezza perché l'ASP di Reggio Calabria che decide senza concordare con la massima sanità del territorio o ciò che si deve fare sul territorio è chiaramente abbastanza discutibile. Discutibile quando soprattutto non c'è chiarezza. La chiarezza deve essere alla base di tutto, alla base di tutto ci devono essere le normative e seguire le normative vigenti, non ci si può improvvisare l'ospedale Covid quando questa struttura per anni è stata abbandonata a se stessa. Va rimessa in piedi, vanno date le giuste caratteristiche, vanno date le giuste potenzialità che questa struttura merita. Chiaramente vanno assunti medici, vanno assunti gli anestesisti che sono assolutamente assenti e vanno assunti gli OSS che nell'ospedale di Gioia d'Auro non ci sono. Se a tutto questo non ci sarà seguito, non verrà dato seguito, chiaramente noi saremo contrari a qualsiasi tipo di iniziativa che non preveda la certezza e la chiarezza su quello che deve essere un ospedale che dovrà diventare quello di Gioia d'Auro.